Occhio la porta andiamo a partire di nuovo andiamo a partire di nuovo questo è il momento che si è vicino Passare a questa quella? No 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 Vi guardi la... di dove arriva qui? andiamo su Occhio che c'è il gampio questo adesso eh io... porta pure il sacco eh lì si se ne vanno qui 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 not mehr se ne vanno qui non è più Grazie a tutti